Presidente Salvatore Napolitano, il presidente di un volturno che si è rinnovato nel roster ma io partirei dalla piscina che è un gioiellino campano veramente quando siamo entrati in questi giorni veramente si respira un'altra aria ma sembra una piscina che si vede solo al nord è sempre stato un bell'impianto che mancava una manutenzione costante, ordinaria e straordinaria siamo partiti proprio dalla struttura abbiamo cercato di mettere innanzitutto in sicurezza l'impianto poi è stato rimodernato sotto tutti i punti di vista, spogliatoi nuovi, tribune nuove, impianti energetici nuovi un grosso sforzo sia economico che fisico però poi c'è la soddisfazione di vedere veramente un bell'impianto Un nuovo volturno anche in acqua, un po' si riparte da quel fantastico girone di ritorno dello scorso anno di qualche mese fa in realtà, sono arrivate tre giocatrici per alzare un po' l'asticello Sì, abbiamo programmato perché credo che ormai bisogna assolutamente pianificare tutti gli sforzi sia economici che una società può fare sia quelli che può fare dal punto di vista tecnico un allenatore per cui abbiamo iniziato a programmare quattro anni fa questo progetto di risalita e adesso piano piano dovremmo arrivare alla meta E' iniziata bene quest'anno con la vittoria scaccia tabù, verrebbe da dire contro i Lions Napoli finalmente violata la scandone contro una squadra che tradizionalmente è stata sempre piuttosto ostica vittoria anche strameritata, larga, però è solo il primo passo di un lungo percorso No, è solamente la prima partita e come tutte le prime partite di un campionato questo ha poco valore nel senso che poi ci sarà tutto da giocare andate e ritorno quindi c'è tanto da fare però chiaramente cominciare con il piede giusto fa sempre bene aumenta l'autostima delle ragazze fa entrare una mentalità diversa l'importante è che al di là della vittoria abbiamo vinto bene giocando veramente bene quindi questo lascia ben sperare per il futuro E domenica in questa rinnovata piscina ci sono anche delle belle novità che poi gli spettatori potranno vedere proprio con i propri occhi perché veramente è diventato un vero e proprio club c'è l'Ancona Ancona che è una squadra tradizionalmente molto ostica anche se l'anno scorso cadde proprio qui all'ultimo secondo e tra le cui fila c'è quella vittoria a Kish che fino alla scorsa settimana era qui Sì, la storia di vittoria è una storia lunga c'è stato un equivoco a livello di normativa federale un po' colpa nostra, un po' colpa della federazione che non è stata chiara sull'etimologia della parola straniera vabbè, però ormai diciamo è storia passata Sì, incontriamo nelle prime due giornate le due squadre che l'anno scorso hanno fatti playoff promozione L'Ancona dopo qualche anno in A1 l'anno scorso era retrocessa aveva puntato alla risalita come punterà quest'anno quindi la partita sarà sicuramente di alto livello Mi auguro che abbiamo una risposta da parte del pubblico ci sono tante novità che renderemo la partita un evento sportivo si comincerà con un piccolo aperipartita per poi, vabbè, questo poi è compito più vostro che mio nel rendere lo spettacolo a 360 gradi